Siamo giunti all'ultima domenica di avvento, quella che precede la nascita di Gesù, con noi sempre a farci compagnia, Padre Franco, ben trovato Padre Franco, buona domenica, siamo ormai vicini, prossimi al Natale di Gesù a Betlemme e incontriamo un altro protagonista, un personaggio tra virgolette se vogliamo, alquanto particolare, che è San Giuseppe, lo sposo di Maria, il padre, il custode di Gesù. Che dire di Giuseppe? Possiamo dire di aver ascoltato le due annunciazioni della nascita del Salvatore di Gesù, con parità di genere, io direi così. Ecco, il giorno dell'Immacolata e l'annunciazione a Maria, una lettura al femminile. Oggi, ultima domenica di avvento del ciclo A, Vangelo di Matteo, è l'annunciazione al maschile e a Giuseppe. E ci sono delle differenze, secondo me, interessanti, che non sempre vengono sottolineate, ne dico una. Ecco, a me sembra che l'annunciazione a Maria sia quasi come Dio chieda il permesso. E' molto attento l'Arcangelo Gabriele e quindi Dio, insomma, alla femminilità. arriva con un grande rispetto, con attenzione quasi sulla punta dei piedi, dà il senso della gioia, sei piena di grazia, e poi alla fine fa una proposta quasi a chiedere la disponibilità. Sei disponibile, non obbliga, non interviene. Con San Giuseppe c'è un atteggiamento diverso. E' vero che, come dire, è ambientata nel sonno, quindi Giuseppe sta dormendo e quindi fa questo sogno, ci dice. E nel sogno c'è l'angelo che... Ma è più un dato di fatto, insomma, l'angelo dice a Giuseppe, le cose stanno così. Le cose stanno così. Quindi assumitene al maschile, io dico. La tua responsabilità. Prendine atto. Prendine atto e vai avanti. Secondo me non viene sottolineata sufficientemente questa separazione, che è una separazione anche di genere, ma nello stesso tempo è anche il segno della diversa, come dire, delicatezza di Dio, perché Dio è donna e Dio è uomo, è maschio e femmina, perché è l'insieme dell'umanità che ne porta l'immagine e la somiglianza. E quindi dice attitudini differenti. Ecco, dalla delicatezza, la gentilezza e anche, diciamo, un po' la curiosità al femminile e l'alta presa d'atto di responsabilità e anche il bisogno magari di una spinta, che è più maschile, perché magari come donna si parte poi più velocemente. L'altro, devi dargli la spinta e poi va. Ecco, mi sembra che Giuseppe si trovi su questa linea, in questa linea, la lettura dell'annunciazione a Giuseppe. Diciamo che anche grazie a Giuseppe è una storia lieto fine. La famiglia di Nazareth è una storia lieto fine, grazie a lui di cui non conosciamo neppure una parola. Siamo partiti dal silenzio, sembrerebbe che Giuseppe sia muto. In realtà non è muto, perché si parla in tanti modi. Non c'è solo il parlare verbale, ecco, fatto di parole. C'è un linguaggio fatto di gesti, fatto di atteggiamenti, fatto di disponibilità. Ecco, di Giuseppe viene sottolineato questo linguaggio, il linguaggio dell'azione e della disponibilità. viene definito con due caratteristiche fondamentalmente, dall'Evangelista Matteo nel brano che ascoltiamo in questa domenica. Viene definito come giusto, uomo giusto, e qui ci sarebbe molto da parlare sul concetto della giustizia e su chi può essere considerato giusto secondo la Sacra Scrittura. E poi viene presentato come uno che fa, che fa secondo quanto gli è stato, tra virgolette, consigliato, comandato, presentato, perché gli ha presentato il dato di fatto da parte dell'Angelo. Quindi una persona giusta ed una persona attiva con responsabilità, perché ha preso atto della situazione e l'ha fatta sua. Quindi si è fatto, come dire, responsabile della realtà e della situazione. Io credo che oggi abbiamo bisogno di persone responsabili, che fanno proprio la res e la muovono al positivo e la fanno crescere. Lui faceva un mestiere comune, se vogliamo, però lo immaginiamo quando ha saputo in quel momento quante forse, quante piallate si sarà dato sulle mani, quante martellate sulle dita. Non ci poteva credere che avesse scelto proprio lui, attraverso poi Maria, anzi Dio ha scelto la sua promessa sposa. La reazione di Giuseppe, dopo tutto, è anche normale, insomma. Ma forse siamo noi che ci facciamo dei film, perché il Vangelo è molto secco sulla figura di San Giuseppe. Non ci presenta i sentimenti di Giuseppe. Ci presenta senza dubbio questo essere venuto a conoscenza che la sua sposa era incinta e che non era lui, il padre biologico. Certo che questo dovrà aver cambiato chissà quante cose saranno successe dentro di lui, insomma, a questa presa di coscienza. Ecco, però l'elaborazione che ne ha fatto e la responsabilità che ha portato avanti, questo dice la grandezza di quest'uomo, anche se di lui non conosciamo neppure una parola. Giusto e responsabile, io direi. Allora, anche nella figura di Giuseppe ci può stare qualsiasi di noi, insomma, se non altro come prospettiva e come desiderio. La realtà non è tutta dipendente da noi. La realtà la dobbiamo accogliere più che fare. Ci precede, ci precede. E se non accogliamo questo che ci precede, rischiamo di essere tagliati fuori o di essere così smembrati da quello che è il mondo e la vita. E quindi di essere, tra virgolette, dei depressi. O alla ricerca di illusioni che non costruiranno alla fine mai nulla. Ecco, Giuseppe appare invece uno esattamente opposto, insomma, che ha capito che questa realtà che lo precede, anche se al momento lo può sconvolgere, è la sua e la può far crescere. Tutta l'umanità potrebbe dire grazie a San Giuseppe. Diciamo che nella tradizione cristiana è messo al terzo posto, insomma, Gesù, Maria e poi Giuseppe. Insomma, è in qualche modo il custode della Chiesa, perché se è stato il custode di Gesù, il figlio, ecco, è anche il custode di quella che è il figlio oggi, insomma, della Chiesa universale. E quindi un grazie di sicuro va detto, forse più a Giuseppe che a Maria, per alcuni aspetti. Ecco, se non altro per questo suo silenzio, per questa sua disponibilità, per questo suo non essersi tirato indietro e aver accolto ciò che non avrebbe mai immaginato e costruito. Ci sono terzi posti, visto che è al terzo posto, che valgono una vittoria. Certo, la medaglia di bronzo, dicono quando ci sono le, alle Olimpiadi, insomma, la disputa per il terzo posto, che sia più bello vincere il terzo posto che non il secondo, perché il secondo ce l'hai dopo una sconfitta, anche se gareggiavi per il primo, non lo so, diciamo alle Olimpiadi, insomma, alla palla nuoto, il terzo posto finisci comunque con una vittoria. Ecco, al di là del rimanere un po' indietro, ecco, è però una vittoria. Mi metto dalla parte degli atei, con questo suo atto di fede, Giuseppe ha firmato forse la carriera più imbarazzante della storia del mondo. Senza dubbio, senza dubbio la sua è stata una carriera imbarazzante, però è significativo, secondo me, che l'Evangelista Matteo, che è quello che ci presenta la figura di Giuseppe negli altri Evangeli, non c'è. Mi pare solo Marco dice figlio del Carpentiere, però non ne dà direttamente il nome, mentre San Matteo ne parla più volte nella parte dei Vangeli dell'infanzia. Insomma, lo presenta sempre aggiungendo sposo di Maria. Parola che non è così chiara, per esempio, in Luca, dice promessa sposa di un uomo, chiamato, e poi si utilizza più che altro il termine vergine, ragazza, giovane, insomma, e Giovanni, invece, parlando della donna, la chiama donna, quindi in un modo... Matteo, che mette quindi l'accento come figura, forse perché è un ebreo, quindi vuole far risaltare più il maschio, ecco, il maschile, dice sempre di Maria come sposa di Giuseppe, quindi la figura di Giuseppe ci aiuta anche a capire la totalità della figura della Madonna, che è quella che dimentichiamo di più, secondo me, perché la chiamiamo madre, la chiamiamo vergine, raramente utilizziamo il termine sposa. Però il Vangelo di Matteo, grazie alla figura di Giuseppe, sottolinea, evidenzia questo aspetto, più che gli altri. Peccato che San Giuseppe non sia più nel calendario civile una festività, insomma, sarebbero contenti anche i ragazzi di non andare a scuola. Sì, quando io ero bambino, non si andava a scuola il giorno di San Giuseppe, perché era un giorno di festa, ma come di altri santi, però altri, non so, San Pietro e San Paolo, cadevano già nelle vacanze estive, quindi diventava un obbligo di andare a messa, mentre San Giuseppe sarebbe stato comunque un giorno di vacanza. Un giorno di vacanza. E quindi si dimostra che è la festa dello sposo, dello sposalizio, insomma. Ringraziamolo così, insomma. Allora, per noi è finito questo tempo di avvento, ma per tutti, perché siamo ormai in attesa agli sgoccioli di questa nascita, e ovviamente di farci accompagnare, poi perché Dio viene sempre, non soltanto adesso, a Natale. Padre Franco, un augurio di Natale ai nostri telespettatori, a chi segue fuori programma in a sua somiglianza. Auguri veramente di accogliere questo Gesù che viene, che è in mezzo a noi, e che sarà sempre così, ossia noi festeggiamo il Natale come giorno della nascita, ma la realtà è che Gesù c'è, è in mezzo a noi, però non lo riconosciamo con semplicità, con facilità, e quindi anche colui che continuamente sta venendo. e nel nostro futuro è un invito a guardare avanti senza perdere la concretezza del momento e del presente, senza perdere la responsabilità sul presente, ma con tanta fiducia che il meglio deve ancora venire, e Natale fondamentalmente ci dice questo. Auguri. Grazie. Auguri di buon Natale anche a lei, per la prima volta nella nostra diocesi. L'anno scorso sentivamo parlare di padre Franco Moscone. Adesso noi abbiamo la prova, la concretezza di quello che è. Grazie di cuore. Grazie a tutti. E auguri ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.